A Piedimulera la capolista Virtuscusio vince la tredicesima partita di questo campionato, vince 2-0, un gol per tempo andiamo a vedere i gol. Al ventiduesimo Rossi gioca una palla splendida in verticale per Lissoni che controlla e trafigge Amodei per l'1-0. E nei minuti di recupero il gol arriva al quarantasettesimo del secondo tempo, Ferrari incredibilmente lancia la palla verso Papa che solo davanti a Amodei non può sbagliare, 2-0 la Virtuscusio vince in casa del Piedimulera e vola sempre di più in vetta la classifica. A Piedimulera la capolista Virtuscusi vince in casa del Piedimulera.